Presidente Fava, allora, notte dello shopping a Pescari, primo agosto, insomma ci sarà la possibilità di fare acquisti a qualsiasi ora? Sì, i negozi restano aperti fino alle 2, quindi cerchiamo di ripetere la giornata dello scorso anno, dove sia i commercianti che i turisti e i pescari stessi sono stati molto contenti del movimento creato in città. Dal proposito, da qualche settimana c'è questa nuova iniziativa dei negozi aperti nel weekend fino a mezzanotte, ci sono risultati tangibili da questo punto di vista? I risultati ci sono, chiaro siamo all'inizio, ci sono delle prove, poi senz'altro dovremo sistemare nuovamente alcune cose, però intanto è un'apertura, il turismo di Pescari è molto contento di questa iniziativa, i risultati poi in futuro li darà senz'altro. Ci saranno circa 200 negozi che restano aperti fino a notte fonda, tutta quanta la città concentrata nel centro cittadino sarà appunto interessata da questa grande manifestazione che vuole essere un momento per consentire ai consumatori di Pescara, ma non solo, di vivere il centro di Pescara con una nuova visione, con tanti concerti che ci saranno negli angoli delle strade, con tante iniziative che i singoli commercianti hanno appunto messo in campo e con il suo segno chiaramente dell'amministrazione perché crediamo che questa sia l'occasione davvero per dimostrare che Pescara può tornare ad essere la grande città del commercio e del medio idriatico e può sicuramente essere un incubatore di nuove idee, di nuova imparatorietà e soprattutto che può tornare a crescere e a dimostrare che il commercio urbano davvero ha una nuova vita e una nuova linfa.